Il film è stato veramente stupendo l'ambiente lavorativo in generale. Dal primo giorno il clima che si è creato si vede che intanto tutte le persone che hanno fatto parte di questo film si conoscevano, si stimavano molto e si stavano anche simpatiche alla base. Non è che è stato bello questa mancanza di formalità. Tante cose già le potevo condividere col personaggio. Perché? Perché è una ragazza della mia età. Tante anche differenze perché secondo me uno dei lati principali che caratterizzano il carattere poi di Martina del film è il fatto che sia figlia unica, che rimanga orfana di padre. Situazioni che io assolutamente non ho. Martina esprime tutto quello che è la figlia di una classe media medio alta milanese, una che in realtà ha un rapporto profondo col suo tempo, che è proporzionale al suo percorso di giovane ventenne della sua generazione e che contiene tutti quelli che sono anche le problematiche di quei giovani. è una che ha paura da mare, è una che ha paura di mettersi in gioco. Tirati! Bartin